Un SMS che avvisa la sospensione della fornitura d'acqua, è il nuovo servizio attivato da Piave Si chiama Acqua Alert e permette ai cittadini di essere informati in caso di interventi di manutenzione programmati o di emergenze È gratuito, è semplice da utilizzare, è estremamente sicuro perché i dati personali non verranno sicuramente divulgati Come mai avete pensato di attivare questo servizio? Devo dire che ci pensavamo già da tempo Mi è venuta l'idea di attivare questo servizio perché spesso i cittadini non riuscivano ad essere informati con i normali canali di divulgazione di queste informazioni Di carattere di utilità Mi spiego, di solito si mettevano fuori dei manifestini oppure attraverso i social media o attraverso i siti si divulgavano queste indicazioni Bene, adesso possiamo raggiungere direttamente sullo smartphone, sul telefonino, ogni singolo utente La maggior parte delle condotte è datata e necessita di manutenzioni costanti che talvolta prevedono la chiusura dell'acqua Ecco che agli iscritti ad Acqua Alert arriverà un SMS Servizio particolarmente utile anche in caso di criticità improvvise In questo modo i cittadini vengono a conoscenza dell'interruzione del servizio, della durata stimata di questo intervento e possono prendere le loro decisioni in modo consapevole Non è l'unica modalità con cui Piave Servizi è vicina al territorio e ai cittadini? No, Acqua Alert si aggiunge agli altri canali di comunicazione già attivi, vi ricordo la pagina Facebook, la pagina Instagram, il nostro sito istituzionale Piave Servizi vuole essere vicina ai cittadini e vuole rispondere al meglio alle loro esigenze perché ci sentiamo comunque responsabili verso la comunità e verso loro stessi Attivare il servizio di Acqua Alert è semplicissimo, basta entrare nell'apposito sito di Piave Servizi, compilare i campi richiesti nell'apposita finestra di Acqua Alert A questo punto poi il servizio verrà attivato direttamente tramite un SMS di conferma Il messaggio di Acqua Alert può arrivare nel caso in cui ci siano interruzioni urgenti della linea oppure nel caso in cui ci siano interventi programmati Piave Servizi con l'attivazione di questo strumento è ancora di più al fianco degli utenti Noi crediamo molto nell'investimento nelle infrastrutture, provane sia che ogni anno caliamo sul territorio 20 milioni di euro in nuovi acquedotti, fognature e impianti di depurazione ma non solo investimenti di carattere infrastrutturale, anche investimenti tecnologici Grazie a tutti! Grazie a tutti! Si vediics ministri che non siostrava costitutto in mont four borcl study